Risorsa preziosa per l'ecosistema, elemento chiave per l'economia montana, la neve è la protagonista indiscussa della stagione invernale, capace di far sognare sulle Dolomiti turisti da tutto il mondo. Per ANEF, l'associazione degli impiantisti veneti, avvicinandosi inoltre alla giornata mondiale della neve, che si celebra di consueto la terza domenica di gennaio, è tempo di fare alcune considerazioni sull'andamento della stagione. La stagione invernale per il momento sta andando molto bene, siamo felici perché abbiamo notato che abbiamo anche fino a un 15% in più di presenze sulle nostre piste e credo anche negli alberghi, quindi è una dimostrazione che il prodotto montagna funziona e funziona molto bene anche il prodotto Dolomiti belunesi. Una stagione che sta dando soddisfazione agli addetti al settore, attorno agli impianti di risalita ruotano infatti alberghi, seconde case, ristoranti, rifugi e molto altro. Lo aspettiamo con ansia anche le settimane bianche, le prenotazioni ci sono, siamo molto contenti e tra l'altro se venisse anche un po' di neve ne sarebbe ancora di più. Una quarantina le società impiantistiche afferenti ad ANEF Veneto, quattro le principali aree per chi ama lo sport sulla neve come Cortina, Araba, il comprensorio del Civetta e Falcade San Pellegrino. Senza dimenticare tuttavia le stazioni poste ad altitudini più moderate, pensate in particolare per i giovani e le famiglie. Si discute inoltre del possibile collegamento sciistico Cortina-Civetta. In questi giorni è stato approvato e finanziato dalla regione del Veneto perché è riuscito a trovare dei fondi che si chiamano FSC, sono fondi dati dallo Stato in generale per la mobilità, quindi treni, autobus, tutta la mobilità regionale. Tra questi fondi da quanto si è capito sono stati stanziati anche quelli necessari per poter collegare la parte del Civetta con Cortina e cioè da Selva di Cadore alle Cinque Torri. Noi stiamo valutando questo progetto in maniera positiva, vediamo cosa ci dirà la regione, come intenderà effettivamente finanziarlo e se lo finanzierà lei direttamente o se dovrà essere un privato che collaborerà in questo progetto.